oggi si va per le dolomiti ciao velo eeeh 108 anni si si ma sei studiato tu per fare la benzina 26 euro partiamo da qui fino al passo del tonale saranno tutte tatali sta iniziando a piovere o meglio piovitino speriamo regga percorreremo tutta la valcavallina tutta la valcamonica saliremo 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 fino ad arrivare al passo del tonale buongiorno mondo madonna che freddo com'è che i gss si cadavanti e non hanno preso il camper dai si il camper se ne va dai che c'è anche la striscia tratteggiata però è stato il gruppetto degli ducati dai 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 adesso mai più cazzolo ecco che col freddo arriva la bp cos'è avete impostato la mappa reine e andate 20 all'ora c'è non vorrei dire ma abbiamo dato merda a dei gss 1200 versus 500 che vista che bello non c'è nessuno e abbiamo dato merda a quei gss che andavano a 20 all'ora ma io non lo so c'è hai una 1200 e vai a 20 all'ora avranno magari potuto andare e si cazzo sto sbrinando appena arriviamo sul passo ci fermiamo e magari ci prendiamo un caffè pisciamo dai comunque questi qua in bici pazzi grazie mi ha fatto segno di sorpassare perché non c'è nessuno ma quando lo beccate è un ciclista così così gentile sole in faccia sole in faccia eccolo comunque le gomme mi stanno tenendo benissimo anche quello più umidino che c'è ci fermiamo ci fermiamo ci fermiamo ci fermiamo qua c'è un bar qua c'è un altro bar andiamo qua anzi andiamo qua adesso ci dirigiamo verso il passo Mendola cazzo ma questo passo è praticamente una città c'è l'asfalto che sbrilluccica e non dà molta fiducia madonna che bello ciao ciao non vi posso salutare se no cado e poi figa madonna che sorpasso azzardato che ha fatto se avessimo messo le felpe come volevamo fare sul passo del tonale adesso staremmo morendo di caldo grazie mille per la precedenza eh porca troia madonna una telerecola del sidecar grande i cartelli dicevano passo Mendola a sinistra però il navigatore mi manda qui a destra ma l'ambulanza che taglia dritto le curve dai ah che bellezza mi devo fermare per vedere cosa cazzo è successo l'hai visto quel sasso? sasso porca troia c'era un sasso grosso così l'ho colpito mi è finito contro la marmitta guardo se ha fatto danni o contro il sottoscocca l'ho colpito l'ho colpito grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.